Con Pedro Perini, il direttore della Piccola Orchestra di Pozzolengo alla Fiera di San Giuseppe, edizione centoquindicesima del 2017. Allora, che cos'è questa Piccola Orchestra di Pozzolengo? Allora, Piccola Orchestra di Pozzolengo nasce dai corsi di musica tenuti dall'ente filarmonico di Guidizzolo, col patrocinio del Comune di Pozzolengo. Questo è il quarto o quinto anno che facciamo questi corsi di musica e quest'anno abbiamo pensato di concretizzare il nostro lavoro fatto negli anni con la creazione di un piccolo gruppo musicale aperto agli allievi dei corsi ma anche a cittadini del paese che suonavano o che avevano come desiderio di suonare insieme agli altri. E allora abbiamo deciso quest'anno di mettere in punto in piedi questo piccolo gruppo e eccoci qua come prima esibizione ufficiale, diciamo così. Un'esibizione che vede bambini di tutte le età che suonano strumenti anche più grandi di loro, ed è quella che ha avvenuto la gioia e la soddisfazione. Assolutamente, sì sì. E quest'anno abbiamo deciso di proporre l'inno a Pozzolengo che è stato composto da, mi hanno dato la fotografia anche, dal signor Secondo Gerevini che è stato un maestro qua di Pozzolengo e siamo stati contattati per appunto mettere in musica questo inno di cui avevamo solo testo e accordi, l'abbiamo orchestrato in qualche modo e quindi in collaborazione con il coro dei bambini quest'anno per la prima volta verrà eseguito con appunto coro e strumenti musicali. La musica che unisce quindi la tradizione e l'innovazione al futuro. Assolutamente, sì. Un collegamento diciamo tra il passato e il presente e il futuro con questi ragazzini qua.